Certe assenze dai social si sentono più di altre. Il caso di Fedez, cantante e marito dell'influencer più famosa d'Italia Chiara Ferragni. Da quando i due sono diventati una coppia, non c'è stato giorno in cui non hanno pubblicato post o stories su Instagram che mostravano la loro vita privata. E' stato anche il potere di i social a fa conoscere i due nella veste di mamma e papà dopo la nascita del loro primogenito Leone e per questo motivo i loro account sono tra i più seguiti a livello internazionale. E così, quando i fan non hanno più visto aggiornamenti da parte del cantante milanese, l'ultimo post su Instagram risale al 22 settembre, sui social la domanda ha iniziato a circolare alla velocità della luce, perché Fedez è sparito. A rivelare il motivo ci ha pensato Chiara Ferragni, influencer di moda e moglie del rapper, che ha spiegato come il marito si è attualmente impegnato in progetti professionali che lo tengono lontano da casa. Era stato lo stesso Fedez qualche giorno fa ad annunciare che si sarebbe preso una pausa dal mondo virtuale, senza però specificarne la ragione. E così si sono diffusi i rumors di una presunta partecipazione al reality show inglese Celebrity Haunted insieme all'amico Louis Sal. Al momento la conferma non è ancora arrivata, ma la sparizione dei social sembra confermarla indirettamente. E a rincarare l'ipotesi oggi ci ha pensato proprio Chiara. Mi manca il mio sexy Fedez scrive a corredo di uno scatto di coppia è stato via una settimana per lavoro e probabilmente mancherà ancora un'altra settimana. Tutto lascia dunque pensare che le registrazioni andranno avanti ancora qualche giorno e solo allora il cantante potrà riabbracciare la sua famiglia. La notizia della partecipazione di Fedez al reality show di Amazon Prime Celebrity Haunted circola da circa una settimana, da quando il cantante ha pubblicato un video insieme all'amico Louis Sal e la didascalia. Non ci si vedrà per un po' Quest'estate Fedez ha pubblicato il logo di Amazon Prime sulle sue storie Instagram e anche questo è un dettaglio che non è sfuggito ai più. I protagonisti dello show dovranno nascondersi da una vera e propria caccia alla celebrità o una squadra è composta da ex poliziotti, informatici ed ex militari dovrà cercare di catturare i personaggi in questione che non solo dovranno trovarsi un posto sicuro in cui nascondersi, ma dovranno affrontare l'avventura con pochi euro e solo un kit di sopravvivenza a disposizione? Secondo le indiscrezioni nel cast ci saranno anche l'attrice Diana del Buffalo, Cristiano Caccamo e Francesco Totti. Secondo le indiscrezioni nel cast ci saranno anche l'attrice di QTSS